Radio Bari, le 8 e 12 minuti di mercoledì 22 novembre, ancora bentrovati a questa puntata di Be and the Gang, siamo nel secondo dei nostri spazi di approfondimento e come vi avevo anticipato continuiamo a parlare del caso del Consiglio Comunale in cui durante uno scrutinio segreto su una scheda sono venuti fuori insulti sessisti e danni della consigliera Irma Melini che è qui accanto a me. Intanto io mi collegherei con il nostro Roberto. Roberto vengo da te. Buongiorno Serena, buongiorno agli ospiti in studio. Accanto a me c'è Natascia Moschetta che è un'assistente sociale coordinatrice del centro antiviolenza comunale di Bari perché noi oggi siamo qui in via San Francesco d'Assisi perché abbiamo voluto affrontare questo tema anche sotto un profilo diverso. Sappiamo bene che capita spesso anche di vedere oggi su Facebook, sentire dalle voci magari di persone che conosciamo anche questo tipo di insulto pronunciato con una certa facilità, con una certa leggerezza. Sappiamo che voi trattate in questo centro casi ben più gravi però da un punto di vista simbolico ciò che è avvenuto ha un significato particolare. Sì, sì appunto, praticamente questo episodio rientra tra la violenza psicologica perché infatti se è un atto compiuto con l'intenzione di ledere una persona rientra tra gli aspetti della violenza psicologica. Sappiamo benissimo che non c'è, forse è quella più evidente, la violenza fisica, ma non c'è solo quella, ci sono tante sfaccettature di violenza. Infatti spesso le donne si rivolgono al centro antiviolenza proprio perché si sentono offese o denigrate o umiliate. Come dicevo, se è fatto intenzionalmente rientra in una forma lesiva della persona e porta anche ad una sorta di alienazione della persona. Quindi appunto noi intraprendiamo dei percorsi per rafforzare l'autostima delle donne e per portarle poi alla fuoriuscita da questa condizione. Tra i tanti casi che vi vengono segnalati, o meglio tra le tante donne che vi contattano, ci sono quindi dei casi, da quello che mi pare di capire, di persone che non subiscono una violenza fisica, ma subiscono soltanto una violenza psicologica, vero? Sì, sì, soprattutto violenza psicologica, allora il livido, lo schiaffo, comunque seppur lesivo, però il segno va via, mentre per quanto riguarda la violenza psicologica il segno rimane per sempre perché le parole uccidono più delle botte. Torneremo tra pochissimo dal centro antiviolenza comunale di via San Francesco Lassisi a conoscere un po' i casi che vengono trattati all'interno di questo centro, a capire un po' l'attività che c'è all'interno di questo centro, sempre ribadendo quello che è il concetto iniziale, che qualsiasi forma di violenza, che sia verbale, non verbale, comunque va assolutamente allontanata, allineano lo studio. Grazie, grazie Roberto e grazie alla dottoressa, immagino di poter parlare per tutti, siamo assolutamente d'accordo con quanto è stato detto. Torniamo da Roberto e poi la parola alla consigliera Melini. Roberto. Sì, Serena, stavamo per l'appunto dicendo poco fa di come la violenza in tutte le sue forme sia assolutamente da condannare e lo facciamo, lo dicevamo anche prima, all'interno del centro antiviolenza comunale di Bari. Come potete vedere forse dall'inquadratura del nostro Paolo Gentile, qui c'è stata un'attività proprio ieri, ci sono tutte le sedie in cerchio perché voi fate tante attività per il recupero di una persona che subisce violenza. Perché immaginiamo psicologicamente una persona che ha subito un atto di violenza, che dicevamo può essere verbale, può essere fisico, non necessariamente ci devono essere i lividi, però arriva qui, vi telefona, arriva in questo centro e cosa succede poi dopo? Allora, la donna vittima di violenza si rivolge qui al centro antiviolenza appunto e ha il primo colloquio con l'assistente sociale perché è la figura preposta all'analisi della domanda, quindi a capire un po' insieme alla donna quello di cui ha bisogno. Ovviamente tutto ciò che parte dal centro antiviolenza è condiviso con la donna, il percorso è intrapreso perché è voluto dalla donna, o meglio si intraprende un percorso di supporto psicologico oppure una consulenza legale che aiuti la donna a comprendere quali sono le soluzioni più adatte alla sua situazione. Il tutto avviene in maniera del tutto gratuita. Mi rendo conto che ogni caso è diverso dall'altro, però quanto tempo ci vuole per una persona che ha subito una violenza non fisica, quindi una violenza anche soltanto verbale, psicologica come dicevamo prima, per avviare e portare avanti e arrivare a dei risultati in un percorso di recupero psicologico? Come dicevi tu Roberto, non c'è un tempo prestabilito anche perché ogni persona è a sé stante e dipende anche dalla forza che ogni persona ha di uscire fuori dalla propria condizione. Dipende anche dalla rete che ha intorno, tipo la rete parentale, dipende anche dal rapporto che la donna vuole instaurare col servizio che si rende disponibile ad accoglierla, quindi non c'è un tempo, ogni persona ha una propria tempistica. Adesso nel prossimo collegamento magari capiremo anche un po' come entrare in contatto con voi, come appunto recarsi in questo centro e come si svolge anche da questo punto di vista la vostra attività a studio. Perfetto Roberto, ci risentiamo tra pochissimi. L'ultimo collegamento con Roberto Maggi e poi torniamo in studio e ci salutiamo. Roberto. Beh sì, vogliamo concludere anche un po' ricordando l'attività di questo centro antiviolenza. Quante persone si rivolgono al vostro centro? Allora, nel semestre febbraio-luglio ci hanno contattato 122 donne. Di questi contatti 80 erano residenti nel comune di Bari e 39 invece sono state le prese in carico. Per prese in carico si intende tutte le donne che hanno intrapreso il percorso psicologico qui da noi o un percorso finalizzato appunto alla fuoriuscita dal contesto della violenza. Ecco, io qui ho un volantino. Ci tengo a farlo, a mostrarvelo perché magari poi ne daremo visione anche sulla nostra pagina Facebook, sul nostro sito di Telebari. Sì, appunto per dare la possibilità a chiunque ne abbia la necessità di entrare in contatto con voi. Lo sto a dire, ovviamente c'è un numero di telefono per contattarvi. Sì, allora, il numero verde è per quanto riguarda le emergenze, è l'820-2330. Noi ci troviamo qui a Bari, in via San Francesco d'Assisi e siamo aperti tutti i giorni, dalle 9 e mezza alle 12 e mezza, il pomeriggio dalle 15 e 30 alle 18 e 30. Bene, io ringrazio la dottoressa Natascia Moschetta, coordinatrice del centro antiviolenza di Bari per la disponibilità, per averci ospitato qui stamattina e restituisco la lì in uno studio. Grazie, grazie Roberto e grazie soprattutto alla tua ospite. Un bellissimo servizio che il comune di Bari offre alle donne vittime di violenza.